Ciao amici, come state? Spero tutto bene e oggi si ritorna su Duteft Wars perché voglio fare una cosa molto molto particolare Voglio vedere che cosa succede se mettiamo un esercito di alieni contro un esercito di scheletri Che cosa non uscirà fuori? Proviamo a scoprirlo insieme ma come sempre Siete qui sotto tantissimi like, lasciate il più like possibile per supportare la serie Iscrivetevi al canale con la campanella attiva Ma adesso direi di partire, cominciamo! Andiamo subito in partita, facciamo qua single player E partiamo qua con una nuova partita Duteft Wars Dopo tanto tempo torniamo qui, ma che roba Per prima cosa io direi di prendermi qualche soldino perché voglio diventare ricco Voglio tornare ad essere ricco su questo gioco Mi ricordo con la prima serie che ho fatto qua su Duteft Wars Avevo raggiunto tanti tanti soldini Però purtroppo poi li ho persi perché ho dovuto rifare tutto da capo Anzi più che altro ho dovuto cambiare telefono E quando si cambia telefono il gioco non viene poi salvato Mi tocca rifare tutto da zero Infatti non so quando dovrò di nuovo cambiare ulteriormente il telefono Che cosa ne uscirà fuori Allora, per prima cosa prendiamo qua la bella macchinina Perfetto, metto pure un po' di audio perché sono praticamente senza volume nel gioco Via, 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 corriamo, corriamo, corriamo Guardate qua la stazione di polizia Ma io vi posso qui lateralmente Tra l'altro questa qua è una nuova macchina Che non avevo ancora provato con un nuovo aggiornamento Ferma qua, bella derapata Scendiamo subito fuori Saliamo di sopra e prendiamo i soldini del nostro caro amichetto Chad Ma Chaddino caro, ma io non vedo l'ora di sbloccarti Non vedo l'ora, è da una vita che siamo sempre qua Cioè da quando ho cominciato la serie di Duteft Wars Che sto sempre qui sopra A guardare il nostro caro Chad Che sta sempre lì a guardare la montagna Ma perché? Ma dai, ma che cos'è sta cosa? E tu continui a guardare Chad Continui ad osservare l'orizzonte Che poi, non lo so, ci sarà qualcosa Verrà un qualcosa da quelle nuvole Scopriremo molto, molto, molto più avanti Ma adesso direi di prendere altri soldini che stanno qui sopra Velocemente, salta di qua Saltellino da questo lato Perfetto, via Siamo arrivati già a 7.812 dollari E si scende Andiamo più sotto Perfetto Adesso, andiamo dentro la città direttamente Perché lì ci sono altri soldini che ci servono Soprattutto quello dentro i negozi Evitiamo soltanto qua di investire la gente Perché non vorrei dover scappare anche dalla polizia Mentre faccio tutte queste cose Perfetto, vai Fermiamoci qua Scendiamo subito Sì, se sta macchina si stesse ferma Ok Quindi, vediamo qui intorno se c'è qualcosa Uh, ma qui c'è un edificio Ma ce l'ho già stato di qua Ah, sì, me lo ricordo questo Questo lo chiamo la casa delle banane Perché ci sono sempre banane sparse per casa Ma perché? Ma perché fare sta casa piena di banane sparse? Non so Qui veramente in sto gioco Non ci sono mai cose che hanno senso Che sta roba? Ah, qui ci dice predente Dove trovare un cheat Vabbè, tanto lo conosciamo già Andiamo qua dietro Andiamo da questa parte Dobbiamo andare innanzitutto al dude mart Perché lì ci sono sempre soldini molto molto utili Poi io comunque mi chiedo Perché ci sta sempre un carrello nel parcheggio Cioè il parcheggio è fatto per le auto E qua cosa fanno? Ci piazzano i carrelli Invece questo amichetto qua che è rimasto bloccato Si è bloccato l'amichetto Non riesce ad uscire Dai! Dai che ce la puoi fare Non riesce a fare manovra No, ma non ditemi Io mi sto immaginando veramente adesso Una persona nella realtà Che sta cercando di uscire con la macchina andando dritto Quando realmente, lateralmente potrebbe uscire E invece non ce la fa proprio col cervello Non ce la può proprio fare Vabbè, andiamo qua al dude mart Buongiorno, buongiorno amichetto Vengo qua a fare un po' di spesa di soldini Perfetto, altri soldini di qua Vai! E ce ne muoviamo da quest'altro lato Quello ancora lì fermo bloccato Non sa come uscire Non sa proprio come uscire Mi ricordo tanto quei video che c'erano tanti anni fa su YouTube Di quelle persone che non riuscivano a parcheggiare bene la macchina Quindi uscivano fuori dal parcheggio Poi ritornavano, facevano sempre le stesse manovre Però non riuscivano ad entrare Perché comunque con le stesse manovre Se prima non funzionavano è che dopo funziona E no, bisogna cambiare Che non mi si apre qua Ah, ora si è aperto Perfetto, altri... No, 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 no Cosa? Erano comparsi dei panini lì davanti Ma cosa? Vabbè, allora Direi di andare adesso dove c'è... Niente, no Ma direi che così va più che bene Siamo a 7958 Quindi prendiamo questa macchinina anche qua parcheggiata Non c'era nessuno E me la porto via No, aspettate, aspettate Scendiamo di qua Guardate qui Buongiorno amichetti Datemi qua Datemi tutti quanti i soldini Perfetto Uno, due, tre E raccoglilo però E che roba Adesso andiamo qua dentro Apri la porticina Perfetto Altri soldini E qua siamo di nuovo tornati A 8000 dollari Quindi possiamo comprare di tutto Possiamo comprare tutte quante le armi potenti Su E prendi sto coso E allora Quindi direi di fare una bella cosa Io direi adesso Di andermi a prendere un bel bazooka Dopodichè creiamo L'esercito più grande di zombie L'esercito più grande di scheletri E dopodichè Vediamo che cosa succede E poi li colpisco per bene Con... Vabbè avete capito, no? Con il bazooka Intanto qui c'è gente Che viene investita in mezzo alla strada Il bello è che se lo faccio io Mi danno le stelle Se gli altri invece Investono le altre persone Non succede nulla No, è tutto normale Tutto nella norma Vabbè Io l'ho sempre detto Che sto gioco Ce l'ha con il personaggio Ce l'ha con chi gioca Quindi Andiamo subito qua Veloci, veloci, veloci Parcheggiamo qui la macchina Schiantandoci direttamente Perfetto Questo è il miglior freno Che si possa fare Su Duteft Wars Tanti freni non funzionano Quindi basta andarci Direttamente contro i muri E guardate le macchine Come si fermano Buongiorno Buonasera amichetto Allora, innanzitutto Salvo la partita Così almeno il gioco è salvato Dopodiché Possiamo comprare Il bazooka Sì, tecnicamente Potevo già prenderlo prima Perché costa 7000 dollari Invece l'altro Il mitragliatore Costa 8000 Ma io direi di prendere qua Il bazooka Sì, che bello E adesso dobbiamo andare in un posto Dove poter invocare Tanti scheletri E tanti alieni E voi sapete bene Qual è questo posto Lo sapete benissimo Ormai è sempre quella L'area 51 Lì è praticamente il posto Dove possiamo invocare Qualunque cosa In totale tranquillità Senza che si intromettano altre cose Via, via, via Scendiamo, scendiamo, scendiamo Prendiamo la scorciatoia Prendiamo il mare Come scorciatoia Senza baggarci in acqua E mi conviene tagliare così Perché ogni volta Che provo a passare Direttamente Tipo dall'aeroporto E dall'altra isola Ci metto le ore Ci metto le ore O perché le macchine Mi guidano davanti O perché Proprio il gioco in sé Come ad esempio Ora Perché si stava ribaltando La macchina Soltanto lei lo sa Su Andiamo qua sotto Andiamo dentro l'area 51 E prepariamoci Di invocare un esercito Di zombie E voglio dire Di scheletri E alieni Che bello Via, 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 via Corri, corri, corri Veloce, veloce, veloce Ok Qua direi che va più che bene Quindi ci fermiamo qua Scendo direttamente via Dalla macchina Mamma mia Eppure Eppure davanti Ma che volo che si è fatto Ma no Ma io volevo scendere Normalmente Non volevo scendere In questo modo E vabbè Ormai siamo scesi in volo E ce lo teniamo Perfetto Andiamo qua su Cheat.exe E direi di scrivere qua Alien invasion Vai E iniziamo qua A far spawnare Tanti 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 Begli alieni Si avevo iniziato L'altra volta A fare Non so Che seguivo Dove andavano gli alieni Però Sapete perché non ho più fatto La seconda parte Perché poi ho scoperto Andando avanti Che questi qua Si muovono in modo casuale Quindi comunque Non è che vanno Verso un posto specifico Magari un alieno Cominciano ad andare Verso un posto Un altro alieno Fatto spawnare Da un'altra parte Va da un'altra parte A caso E si muovono Così Senza neanche una dimora Senza neanche una destinazione Ok E qua abbiamo invocato Tanti 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 Begli alieni Ne mettiamo pure altri Qui in centro Perfetto Tanti tanti alieni L'esercito di alieni Più grandi del mondo Guardate qua E adesso Ma ci è arrivato il momento Di invocare Gli scheletri E il cheat dello scheletro Invece Mi sembra che sia Spooky skeleton Aspettate Aspettate un attimo Che vado a controllare Che tanto ce l'ho qui davanti Si Spooky skeleton Quindi scriviamolo qua Perfetto Intanto alcuni alieni Se ne stanno andando via Guardate Stanno pian piano andando Da un'altra parte Dove andranno mai Non lo so Ma so soltanto che adesso Arete il momento Di far spawnare Tantissimi scheletri Uno dopo l'altro Andiamo di qua Facciamo comparire Tantissimi scheletri Dopodichè Vediamo che cosa succede Cioè insomma Abbiamo sia scheletri Sia alieni Qui davanti Sarebbe bello Sarebbe bello Se mettessero pure Un cheat Per far spawnare Gli zombie Secondo me sarebbe stato Molto molto divertente Molto molto bello Guardate qua Quanti ce ne sono Mi sta iniziando La gara e persino il gioco Talmente ci sono Tanti elementi In partita Mettiamo pure alcuni qua In mezzo agli alieni Perfetto Guardate qua Ma che roba E adesso Arrivato il momento Di mettere qua Il bazooka Ma prima di tutto Io diri di farmi anche Un bel selfie Insieme a tutti quanti Eccolo qua Perfetto amichetti Fate cheese Beh dai Devo dire che è carina Questa foto È venuta molto molto carina Ma adesso questi qua Avranno ben poco Da divertirsi 3 2 1 E iniziamo a shottare Vai Ma che roba Spettacolare Ma scusa Ma com'è possibile Ho già tutte quante Le stelle di sospetto Ma tutte Sono stato pure colpito Ma che volo che sto facendo Ma cosa Ma non ci credo Ma queste macchine della polizia Dove sono sbuccate Dove sono uscite fuori Così da nulla Ho praticamente Niente Non potrò far più nulla In sto gioco Via 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 E niente Mi sa che Colpisco pure qua No No Mi hanno preso Mi hanno preso L'unica alternativa Che posso fare adesso È quindi rubare Un veicolo della polizia Appena riesco a vederli Anzi io li distruggo Li distruggo direttamente Vai 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 Distruggiamo anche qua L'auto della polizia Qui c'è un elicottero Vai No Si è mosso Si è mosso Ok Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Colpito No 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 Mamma mia Mamma mia Devo prendere Per forza Un veicolo della polizia Altrimenti qua Non si riesce A scappare Niente È scoppiato Mi è scoppiato Il veicolo della polizia Aiuto Mamma mia Quanti ce ne sono Quanti ce ne sono Chi avrebbe mai immaginato Che per sconfiggere Scheletri E alieni Mi sarei ritrovato L'intera polizia contro Chi l'avrebbe mai immaginato Aspettate Metto il freeze Perfetto Devo cercare di salire Sopra la macchina Della polizia No 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 Non mi funziona il freeze Ma che cos'è Ma dai Ma sto freeze Non va Non mi si attiva Non si attiva il freeze Ma io come faccio A salire qui sopra Se non si attiva il freeze No Dai 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 Freeze Perfetto Ok Adesso me ne posso scappare Via 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 Scappiamocene via Con la macchina Della polizia Perfetto Vai Di corsa No 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 Sto cactus Però Ma dai Si era messo Il cactus In mezzo Via Scappiamo scappiamo Anche se in realtà Io con la macchina Della polizia Non posso fare L'escaping Non la posso fare Perché comunque C'è sempre il poliziotto Qui sopra Quindi l'alternativa Adesso Sarà tipo Far correre molto velocemente La macchina Della polizia Dopodiché scendere Sotto Su però Se si raddrizzasse Come si deve Beh niente Non ce la può fare Non ce la può fare Via 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 Aiuto 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 Vabbè Faccio una cosa Tanto di per sé Quello che dovevamo fare Abbiamo fatto Quindi direi che Potrò venire Quei video Fatemi sapere Qui sotto ai commenti Cosa ne pensate Fatemi sapere Se vorreste vedere Altri video Su due Teft Wars Spero che questo video Si è piaciuto Se vi è piaciuto Mi racconta Spalliciate Cosa vi vedete Iscrivete al canale Con la campanella Attiva E ci vediamo Al prossimo video Come sempre Vi auguro buon giornate Per serate Buonanotte Ciao a tutti Buon panino a tutti E io me ne scappo Via Della polizia Che mi sta inseguendo Ciao a tutti